Che bello, che bello! Siamo in un gioco bello oggi! Hai rotto un timpano! Non è giusto così però, eh! Che bello, che bello! Siamo in un gioco bello! Ma lascia lo stare! Guarda, è felice! Ero il bambino live! Allora, amici, venite con me qua sotto, vi spiego il gioco. Praticamente, avete presente Stick Fight, che c'erano un sacco di armi? Sì, certo, molto bello, molto bello. Questo è simile, però è in 3D praticamente, quindi noi possiamo usare le armi in 3D dimensioni. Allora, io direi, visto che noi siamo delle persone anche di un certo livello e anche abbastanza oneste... No, senza! Io ho una bottiglia, non ho un'arma! Dai zitta, sono sicura che è molto forte. Però, visto che siamo delle persone abbastanza oneste, io propongo di fare dei duelli uno contro uno per iniziare. Puzzi, che bello, sì! Sono d'accordo, mi piace molto questa cosa. Ti vuoi che inizi? Allora, il verde chi è, scusate? Sono io, guarda, sto alzando la mano! E l'azzurro, scusate, chi è? Sono io! Ah, che schifo. E invece il giallo è Anna, giusto? Sono io, sì, sono una patata! Voglio affrontare Alex Naus per prima. Va bene, vai! Sei pronto? Sì, però non so cosa fa la tua arma. No, tu cosa fai quella tua arma? Non lo so, ne ho due adesso. Oh, no, va bene, abbiamo già rotto il gioco. Ho già rotto il gioco. Dai, cosa hai fatto? Dove sei? Sono morto, credo. No! Sì. Sta solo! Allora, Strecato ha congelato Anna, che è morta. Ma mi sono congelata da sola! Sì, perché è un po' difficile riuscire a capire che cosa fanno le armi. Mi danno fuoco! Ok, Strecato è morto e ha vinto Anna. Va bene, ok, questo era un round di prova. Adesso seri. Sì, sì, era di prova, tranquillo. Ok, adesso seri però. Mi piacciono molto questi livelli floreali. Perché siamo carichi. Ecco, vediamo cosa fa la bottiglia, perché a questo punto io sono curioso. Non lo usare! Non lo usare! Ok, no, aspetta, questo è interessante. Ma stai con un jackpack, dai, è bellissimo! Sì. Ok, e invece questo qui è un lanciamissili, sicuramente. Vabbè, proviamo cosa fa. Molto bello! Questo è buono, questo è buono il lanciamissili. Su, un capezzo di Scrault! Sei una persona orribile! E chi c'è? Ma non l'avevi detto con chi volevi duellare però! No, mi ha preso bene, non c'è più duello per nessuno. Oggi si, me la rimani! E prendo qui. Alex, fai il tifo per me un pochino, per favore. Vai Lion, prendi quel pugno e spazzilo in faccia a Strecato! Sì! Bumba baby! Non voglio più questa arma. Oddio, tu dove sei? BAM BAM BAM! Mi sembra esagerato! Bumba baby! È bellissimo! Baby baby! Baby! Vai, vai, piumpim, va stregato! Ma lo sta facendo? Baby! Il più forte, il più impenetrabile! È Lion! Allora, non è giusto perché io avevo una ventosa. Ok, cos'era? Che cosa c'hai? Ma basta, perché vieni tu sempre? Cos'era? No, la volevo io, la volevo io! Quanto sono malvagio Alex Nauz! Sono proprio malvagio! Sì, ho incollato Alex Nauz e adesso guarda tutte le bombe che gli metto nel sedere! Wow, questo gioco è bellissimo! Ok, allora possiamo fare uno contro uno adesso però, per favore? Anna è niente, Anna mi ha attaccato al muro! Stai fermo streghe, per favore, questo è il round mio e di Anna. Anna dove sei? Vieni forza! Sono qui! Ok, sei pronta a combattermi? Sono prontissima! Ok, non sembrerebbe dal fatto che rispondi tre secondi in ritardo alle cose che ti dico. Non ti preoccupare che io sono pronta e tu sei pronto? No! Sono caduto! Allora io dove sei andato? E poi io sono fermo e spaccata e niente! Streghe è il più scarso, questo l'abbiamo capito tutti, ok? Anna mi aveva incollato! Fermi tutti, c'erano dei martelli volati! Ok, infatti, fermi immobili. Allora io vi direi, questo gioco mi sembra fighissimo. Lo vogliamo fare anche in live stasera alle 19? Sì, ti prego, ti prego, alle 19 su Lion WGF Live e sul cavale Viola, troppo bello! Link in descrizione e nel primo commento, partecipate perché ci spaccheremo ancora a questo gioco molto bello. E ho trovato un cubo supremo. Cos'è? Non lo so. Bello! Fai i muri! Fai i muri! Sono caduto. No! Allora vedetevi far finire sto round prima che io mi arrabbi, per favore. Io non mi vedo mai niente! Ma scusate, chi è vivo, scusate? Che che avete fatto? Io! Ah vai a cagare, Anna! Ma no, ha vinto! C'era qualcun altro vivo, mica ero solo io! Io mi stavo buttando di secco, non riuscivo! Io non mi devo fare niente! Esatto! Alex e Anna! Scusa, ci vi fai... Chiedo perdono! Guarda, vengo qui e faccio la spaccata per chiedere perdono! No, Lion, non prendete qui le cose negative! Tutti la spaccata! Vado io la spaccata! Adesso vi spacco a voi! Non so, ma pienino, Lion! Mi hai pizzato! Spermo! Oh, ti devo sparare! Dai! Cosa hai fatto? Vi consiglio di diventare un po' più aggressivi, perché su questo gioco non voglio risparmiare nessuno! L'ho detto secco dentro! Oh mio Dio! Allora, questo tu non sei capace! Io lo so per certo che tu... Non so, non so! Lion, dai, dai, dall'altra parte! Lion! E niente! Lion, no, dai! Era vero che non ero capace! Stiamo morendo! Era vero! Eh, ma io mi ricordavo che tu questa cosa qui non la sai affrontare! Sì, però streccato ha rotto le palle, eh! Anzi, non era streccato, era Alex il verde! Mi confondo sempre! Dai, non è quel famiglio di morire prima di me! Oh, questo ero bravo stavolta! Sì, ma fai schifo a parlare, perché fai tutto aria da tutte le parti, sei veramente un po' rodilatato! No, davvero, mi dispiace! Eh, anche a me dispiace che tu esista! Alex, smetti lei di toccarmi! No, me stai toccando tu a me! No, mi stai toccando tu a me! No! Bene! Sono morto! Alex è morto! Anna, devi riuscire a buttare fuori streccato, però... Va bene! Magari ti aiuto io! Ma non mi fai del male su! Eccolo qui, Lion! Lion! Non mi ricordi che mi hai smitto giù! Vieni, Anna, forza, vi è cera! Vieni! No, vi è c'è! Sono pronta, sto arrivando! Ho trovato una pozione! Sì, Lion! Dai, ma perché approfitti della mia stupidità? Attenzione, ragazzi! Amici, amici, state lontani! Attenzione! No, questo è pericoloso! È periglioso! Suoni ovunque! No, Alex! Alex! Io sono quella gialla! Io sono quella gialla! E io sono blu! Dai, Alex, adesso vengo lì e ti prendo... Oh! No, perché gli hai dato le armi? Non è il range! Non è... Cosa hai fatto, Lion? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Volevo provare le armi di Alex e non è stata una buona idea. Erano di Alex. Attenzione! Non è stato un problema diverso dalle armi di Alex. Oh, quest'arma, quest'arma! Fai un muro, Lion! Sì! Ho fatto un muro! Stiamo dietro al muro tutti! No, col cazzo! Mi ascolta dietro al muro! No, voi non potete stare dietro al mio muro, scusate! Eh, vabbè, allora, allora... E invece ci sto dietro al muro! Lascio... Lascio stare! Oh, il muro è finito! Uè! Uè! No, dai, lo spaccali! No! La cola! Anna, suca! Questa è questo diapasone! Diapasone! Eh, niente, ho vinto Anna! Ma c'è un punteggio per vedere chi è in vantaggio? Non si sa! Forse è finito il game, non lo so, sinceramente! Va bene, lo scopriremo, tanto fidatevi che sono in vantaggio io! Sicuramente sei in vantaggio! Sono troppo figo! Questo livello è bellissimo, cambiano le stanze! Ok, ho trovato un fucilone! E voi dove siete? Uh, adesso... No, io non vedo nessuno! Dove siete? No, io ho visto Lion, perché c'è un fucile che... No, Lion, vieni qui! Smettila! Piccolino! È cambiata la stanza! Vieni da Papà Castoro! Papà Castoro vuole toccarti! Vieni qui! Dove sei? Papà Castoro! Vieni qui! Non vengo! Cantiamo in coro! Chi era lì? Era Strecchino! Anche un'arma! No! Dai! No! Che cattivo! Avevo appena preso la bacchetta magica! Strei, ti sto aprendo in cinque! Strei, sei stato proprio diviso in molte parti! Sto dietro Alda! Non lo scudo! No! No! Non lo scudo! Come hai fatto a spararmi? Yow! Yow! Non è giusto! Quanto forte! È onesta! Wow! Ahia! Sto fiumi, tiri! Wow, sono troppo! Ma sei l'aggressivo, Lai! In questo gioco sono l'aggressivo e il malvagio! Io vengo in pace! Vengo in pace! Attento ad Alex! Attento ad Alex! È morto da solo! Perfetto! Non è vero! Chi è che mi esploso? Va a fan bagno, Anna! Va a fan bagno, Anna! Non si impari a darmi i pugni, hai capito? I pugni! Ok! Cazzi, ma cos'è sta roba? Allora, sto notando... State zitti! Sto notando un leggero mercato del pesce! La cosa non mi piace, ok? Quindi regolatevi! E adesso... No, dai! Ma non ci hai perdito! Ma chi è stato? Strecato! Anna! Cosa ho fatto io? No, eh! Io sono morta, eh! Io sono morta! Eh, ma hai fatto male a me! Come ti permetti? No, no! Non avevo niente! Come ho fatto a farti male? Chi avevo niente? Porca miseria, è difficile! Però non puoi cadere da solo! È difficile, eh, questo gioco! Siamo tutti caduti! Ok! Sono veramente molto articolosi! Sì, ma è colpa vostra che fate il mercato del pesce, però, eh! No, allora, no, no! Cominci... No! È una! È colpa del gioco! Che le prime armi sono arrivate a te! È una! E mo... No, sono ricollato! Mi è collato! E mo sistemiamo l'altro! Ti prego! Perché mi sta antipatico l'altro! Per favore! L'odio a morte! Eh? Così? E mi hai lanciato! Opla! E poi? Adesso aggiustiamo l'ultimo! Dov'è? Ah, ma... Ah, ma sei qui? Sto volando! No, è in cielo, è in cielo! Guardalo! Alex! Dai! Alex! Tanto prima o poi si scarica! Non ti preoccuparei! Dai, dai, non ti prego, dai! Cos'è? Ma è un magnete! Mi stai magnetizzando? No! No! Non cadrò! Sì, vieni qua! Tieni, ti faccio cadere! Tieni, ti faccio cadere! No! No, non so farlo! Vieni qua! Voglio quell'arma! Voglio quell'arma! È morto, sì! Ma sei bravissimo! Sei bravissimo! È una versione orribile! Grazie, è vero! Sono veramente... Vedo del talento in me in questo gioco! No, Anna, per favore! Non ti voglio fare nulla! Ferma! Aspetta, aspetta, aspetta! Ok! Spara loro! Sparagli alle catene! No, no, anch'io facciali! No! Oh! Lo faccio anch'io, eh! Le catene! Vai, vai, vai! Che siamo forti, Anna! Vince lui! Il lungo osso! Godurioso! Ma lo faccio alleati! Perché l'hai fatto? Scrivetemi hashtag ilgodurioso nei commenti, per favore! Perché sono veramente così! Godurioso! Ma sei potente, dai! No, no, era mio quello! Aspetta! No, adesso è mio! Che cosa fa sto coso? Oh, no! No, non mi buttare nelle spi... Oh! Adesso vedo, Alex! Mi è esploso! Sono morto da sol... Allora, ok, pausa, fermi! Allora, ho notato che spesso e volentieri moriamo da soli per provare le armi! Possiamo smettere di fare questa cosa un po' stupida? Magari sarebbe carino! Sarebbe bello! Di chi è la colpa? È un po' tua, è un po' tua, perché tu metti ansia! Ah, no, dai, non di tua! Sì, intanto sei l'unica che ha già preso una pistola, noi altri non abbiamo... Guarda che ce l'hai in mano anche tu! Wow, la metto alla prova, questa pistol! Hai invaduto a Anna! No, no, no! Devi sparare alle catene, le catene, le catene, le catene! Le catene, le catene! Cos'è? Cos'è quel coso? Palle! Ci sono le palle nelle catene! Non mi sparare a me, Lion! È pieno di palle! Ma chi è rimasto vivo? Corri! Non scappano le palle, Lion! Non scappano le palle! Alex, ti sparo le palle! Vieni qui! Stanno spallando le palle! Alex, con le tue palle, te le riduco ancora... Non è possibile, ha vinto Alex! Le palle hanno vinto! Questa cosa mi triggera! Questo è perché tu attacchi senza pensare! Io attacco perché sono un attaccante, sono supremo e non vado in faccia a nessuno! Oh no, un ventilatore! Sì, è il ventilatore! Su, c***atemi con il ventilatore! No, no, dai, no! Il ventilatore però è illegale! Nessuno aveva la minima speranza contro Ergodurioso, Lion! Adesso va là! Divertente, dai! Adesso va qua! E sono caduto! Dai, dai! Non puoi cadere sempre! Scusate, qualche volta potrà succedere anche a me, a voi succede continuamente! Eh, si può scivolare! Si può scivolare, capita! Ma voi non avete tattica! Perché qua ci sono tutte catene! Usa le catene! Uccidici tutti! Va bene! Ma muoio anche io! No, non fatelo! Non fatelo! Ma perché sei fanato a me? Sì, così non vedi e cadi da solo, eh! No, sono caduto davvero! Eh, lo sapevo io! Attenzione, qualcuno ha fatto una bolla! Lion, cos'è quella palla? Scappiamone! Scappiamo! È la mia palla! Ah! Volgare! Oh! Ah! Anna, stai attenta! Alex ha messo le torrettine! No! No! Mi mangio le torrettine! Mi mangio le torrettine! Mi mangio le torrettine! Cioè, quanti rendi conto che ha creato un nido di devasto? No, dai, io non puoi spararmi con torrettine! Alex! Dimmi! Io non ti voglio più bene, ok? Ma forse non te l'ho mai voluto! Ma adesso guarda! Non ti permesso... Ma allaggia! Aia! Aia, mi stai prendendo! Aia! Ma mi hai ammazzato! Bene! Sono contento! Mi siamo rimasti? Io! È caduto il ponte elevatoio! Io ho ucciso qualcuno e mi è caduto il ponte elevatoio! Adesso... Vieni qua! Eh, vieni qua! Più, più, più! Te lo do io più, più, più adesso! Più, 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 più! Brutto sozzone! Eh? Ma Anna dove sta? Anna è armata di tutto il punto! Con un ventilatore! Con un ventilatore! Eh, ho capito! No, il ventilatore è illegale! Cioè, mi sembrava eccessivo, Anna, quello che hai fatto, eh! No, tutto ti devo... Quella questa palla! Sì, sì, guarda la palla tua, aspetta un po'. Ma c'è stupendo! No, no, io la posso fare! Ma! Bruciate! No, che cos'è quella cosa? Peoni, mole, moni! No, 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 no! Ma vince lo stesso lui! Che l'hai fatto? Godurrioso! Ma hai fatto? Godurrioso! No, ci sono le palline di prima! Il mastro di questo videogioco! Il più forte del videogioco! Toh! No! Toh! Deve che mi si è calli! Sono le gattine! Lion, sali! Oh no, Lion, però! Non sparare a me! E io sono morto, basta! È il Godurrioso! Adesso mi spieghi come hai fatto a salire! Guarda, devi essere Godurriosa! Purtroppo non sei nata Godurriosa, quindi non sai queste cose qua! Mi dispiace per te! Come si fa per diventare Godurrioso? Eh, non si può, non si può! O ci nasci, o per diventare... Non c'è qualche gadget? Qualche tattica? No, vabbè! No, no, no! Lion c'è l'arma! No, perché sto continuando a sparare! Ma porca miseria! Che cretino! Hai fatto tutta la barba! Hai fatto tutta la crrrr! Adesso prendo due pistole e faccio il danno! Oh no! Lion, non fare così! Basta! No, basta! 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 Che fragile! Dai, vincere per lui! Godurrioso! Come fai? Senza meno! No, dobbiamo allieare! No, no! Più, 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 più! A me pare comunque, a parte che vi sto distruggendo, però a me pare di aver detto che non mi piacevano i mercati del pesce e voi avete ricominciato a fare il mercato del pesce. Strecato, vai giù subito! Mi piace il mercato del pesce, mi dispiace! Ah, mi butto giù, basta! Oh, ci sono tanti layer! Dai, hai vinto anni a caso! Eh, l'hai visto il mio guantone? Il mio guantone! Non ho visto niente, non mi interessano delle tue cose, ok? Non me ne frega! Ma dove siete? Strecato, stai zitto! Ok? Va bene! Mi fai schi, non ti voglio bene, basta! No, perché? Questa sera in live, porca miseria, te le dico tutte, eh! Ti dico tutti i motivi per cui mi stai sulle palle! Ti faccio la lista! E ti caccio via dal gruppo! Se siete curiosi, venite in live con noi! No! Non lo fare così! Stavo spammando le live! Stavo spammando le live! Devi morire, devi, mannaggia te! Ok, godurioso, si riprende la leadership! Quanta cattiveria! Dai zitto tu, che stasera, porca miseria, in live ti faccio piangere, guarda! Un po' eccessivo, però! Spacco tutto! Tutto il vetro spacco! È la verità, è la verità! Tutti giù dove te andare! Vai giù, Lion! Morite! No! Ma te voli, come fai? Sono morto! Bravo! Così devi stare! E io vittoriosa, wow! Sono addirato adesso, eh! No, no, queste cose non si fanno! No, no, per favore! Adesso ti passa la voglia, ho preso una granata! No, mi arrendo, mi arrendo! No, no! Ho preso una granata alla fine, scappa! No, che fa male quella! Ma era finta la mia granata? Eh, io ho una pistola! Eh, te la do io, ti gonfio! E poi, guarda, ti disarmo! Poi prendo io la pistola e ti stendo! Ma mi hai fatto malissimo! Aspetta, aspetta! Posso farti vedere una cosa? Non mi picchiare, ti prego! Voglio solo farti vedere una cosa! No, aspetta! Cioè, Alex, devo sgambirrarlo! Ok! Non mi avrai mai più! Ti prego, ti prego! No, Anna, Anna, non mi inter... Anna, cioè, scusami, eh, ma... Lion, per favore! Lo so che tu mi odi, però ti prego! Sono morto da solo, Anna, per dar retta a te! Cioè, Anna, allora! Anna, non devi distrarmi! Mai! Ok? Ma io volevo farti vedere una cosa! E adesso si toglie dalle palle sto verde maledetto! Ti sto provando, ho fatto! Ma volano! Cioè, Alex stava di brutto barando e rompendo le palle! Hai visto che stavo volando? Volando? Alex, quando io muoio devo stare a guardare le tue prodezze o magari ti devi togliere dalle palle? Ah, ok! Io stavo cercando di togliermi dalle palle! Ma è vero, eri lì aggrappato! Ti ho visto! Ti ho visto! Disgraziato! Che è sto schifo? Cosa sto facendo? Cos'è sta roba? Ma cosa mi sta fingendo? Ma perché ce l'hai sempre con me? Perché ti odio oggi, ok? Perché è giusto! Così! E infatti! Oh! E finalmente! Oh! Abbiamo anche cambiato colore! No! 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 E come facciamo qua? Vabbè io mi sento! Era difficile questo qui, eh! Questo qui era un po' Difficilissimo! Ostico, effettivamente! Oh! Corrate amici! Corri! Alex se ti piglio! Non picchiate per favore! Non mi picchiate! No! Non mi picchiate! Stai fuori! Dovete stare fuori! No! Sono arrivato prima io! Non mi piccita! No! No! Spingiate! No! Non a me! Spingiate! Bastard! Dai! Ha vinto Anna! Lo sapevo! Che vergogna! Ma come ha fatto lei? Perché sono arrivata prima! Che prima arriva bene alloggia! Questo gioco fomenta l'odio in un modo poco bello! E sono gli altri e ci si appoggia! Vai via! Anna! No! Sono morto dai laser! Strei! Della storia della tua vita a me... Mi dispiace però era per dirvi che dovete starci a dentro! Cioè guarda non me ne frega proprio niente! Bravo! Bravo! Cioè Strei adesso parliamo della storia della tua vita per farti capire quanto poco mi interessa! No! Allora niente è un eufenismismo! Ok! Ma bobo niente! No! Allora le armi non sono valide nel box! Ma bobo niente niente! E stai zitta tu perché mo le prendi! Pensa che sono con la mia bo! E vi spacco a tutti quanti! Disgraziati! Vieni qua che ti dia un pugno! Vai Lion faccio il tipo per te! Vai Lion! Lion per favore non perdere ho fatto il tipo per te! Vieni qua perché te ne stai sguisciando via! Sembra una fatina con una cosa in mano la bacchetta! Aia! Oh vince! Ergo duria! Ergo duria! Sempre lui! Wow! E sono morto anch'io! Vabbè tanto muoiono anche io! Come si fa? Non sapevo io! Vabbè è schifo! Come si fa a salvarsi lì? È impossibile! È un po' di fi... Fai la spaccata! Eh ho capito! Ok! No è il cubetto magico! Oh no! Lion corri! Aiuto! Dai ma non serve a niente sta roba! No dai avete smerdato tutta la mappa! Per favore! Non si vede più niente! No sono caduto! Buttatevi subito! Che schifo! Sei stupissimo! Allora abbiamo rovinato la mappa è stata colpa mia! Devo ammetterlo questa volta sono stato io! Scusate! Scusate! Ho cercato! Anna! Perdono improvviso! Anna! Chiedo scusa! Anna! Sì? Stai vendendo le more? Sì! No! Non lo so! Non lo fare mai più eh! Sono gialla quindi limoni! Ecco! Non ti permettere mai più di vendere frutta e verdure! Vai via foca! Ma come ho fatto Anna? Ma come avete fatto voi due? Adesso ti spacco Anna! Ma cosa vuoi fare con quella ventosa? Dai zitta adesso! Te lo do io te lo do! Niente c'è il ventinato! L'abbiamo perso! Ecco! L'abbiamo perso! Dai! E mochi a questi qua! Parla da me! Ho sbagliato! Potrei aver sbagliato un pochino! Però po- Ah! Stupida! No! C'è una spada bellissima! Prendila! Sono morto! Dai dai io però! Dai siamo tutti deficienti! L'unico che non è andato ha vissuto! Ma perché a volte quando ti schiacci non si schiaccia? Ma fa la spaccata il credino! Ho capito! Però guarda che infame sto giochino! Sono caduto di nuovo! No vabbè ok! Va bene! Com'è possibile? No secondo me ha vinto Anna alla fin fine! Perché mi sa che io io me la son tirata tanto! Poi alla fine ho fatto schifo! Perché sei solo caduto! Non è colpa tua ovviamente! No ragazzi! I laser! Puoi ancora rimontare! Sono morta! Ah! Interessante! Dai dai! No no no! Ok! Eh! Volevo ben vedere infatti! Mi è caduto da solo! Mi sembrava strano! Oh bellissimo! Siamo su un pavimento di gomme da masticare! No si rompe tutto! Illegale! Illegale! No no no! Fa caluto niente! Sì ma tu vinci solo perché gli altri cadono Anna eh comunque! Ho capito io! È così! Io faccio sbigidi sbongidi! No fai bigidi sbongidi un cacchio! Sei scarsa! Ma si rompe tutto qui! Eh! Mi rompo tutto! Corri corri! E sei anche pregata Anna di andare giù perché stai mettendo il tuo cervello tutto a pensare solo a correre a saltare e quello che esce fuori dalla bocca sta ricominciando ad essere sul livello di piu 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 piu! Ok? No! Piu piu piu! Anna! Che t'ho detto! No sto scherzando! Sto scherzando! Sto scherzando! Mamma mia! Vai giù! Come sei? Vai giù! Vai! No non è vero! Io non andrò giù! Anna! Perché io devo vincere! Addio! Bene! Piu piu! No! Dai! Ora mi ricordo! Piu piu! Piu piu piu! Piu piu piu! Prendi fuoco! Io te ne ero l'inferno! Se mi libero mannaggia a te guarda! Ma dove sei finito? Io non ti vedevo più! Era incullato! Allora Anna stai continuando a fare la deficiente eh secondo me Anna... No perché io prima sono morta non ho fatto niente di male! Eh no eh no eh no eh no però il livello di quello che dici è in bassino Anna eh! Ah perché infatti il tuo è stragiante! Io sto facendo le poesie mentre gioco sì? Fa voi sentire una poesia forza! Eh! Mi devi fare una poesia sull'arma spara palle che è adesso! Eh! Non mi uccidere qua! Quante palle volano nel cielo che strecato ha capito meno di un pelo eh? Oh questa è bellissima eh! Bellissima grazie! Bellissimo! Ok questi libri non mi piacciono! Sono bruttissimi! Devo ammettere che sei molto bravo! Allora basta ragazzi ci fermiamo qui! È stato molto bello a parte Anna che parlava dei fatti suoi e strecato che parlava delle cose tre minuti di ritardo eh però dai ci stava per oggi ci fermiamo il vincitore del round sarà penso io no tu sicuro no o io o Anna comunque quindi dirò io probabilmente uno dei due dirò io perché così sono più contento no e per oggi ci fermiamo ci rivediamo stasera in live alle 19 mi raccomando venite andate in edicola per prendere i super gadget lionici bellissimi e trovate e lion e la gang del gioco strano molto bello out!